è stato sparato da l'antiaerea, adesso sto andando alla base nemica a fare un po' di cacini passando dietro le montagne la morte viene da dietro è un po' brutta dietro così nooo, non siamo sul serio Sam qua e niente su Skyli non lo sento dietro non mi ha visto base nemica in avvicinamento o io che mi sto avvicinando la base nemica chi lo sa, no vinciotti, bastardotti maledetti è che fu un po' colivo qua a Catalania qua oddio forse non mi ha visto camera 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 oddio non so non so non provo no sono diventato una palla di fuoco comunque se vuoi venire a salarmi il culo sono sulla base nemica e io ero sopra la base nemica che ne stavo perché mi sa che fra poco comincerà a mai dirmi tra 3, 2, 1 go prima bomba sganciata la seconda sganciata se è un milione di chilometri da me sono arrivato eh ma sono lento si ma sei 8 km mi è 5 ma mi sa che ne voglio qui poi dopo eh trovo ma danno alla superficie danno alla superficie 160 punti cazzo ho superato i bestia adesso mi tocca aspettare eh ho superato l'obiettivo non ho sganciato nel momento giusto e ora ci vediamo se e ritorniamo c'è uno che ti sta venendo a brincare eh lo so non so perché che avevo detto se che ha possibilità ma io non riesco ad arrivare là riesco su ad andare in base a fare un po' di casino mi sussurra mi sussurra a base aia oddio oddio mi si era spostato l'aereo tutto sul colpo quindi vuol dire che sono stata battuta ah forca boia ciao mi hanno abbottuto però l'ho fatto un tutto 6 a 5 ragazzi 5 a 5 cerchiamo di non farci abbattere 4 a 3 4 a 3 forca boia si è spiantato no 2 a 3 ma come facevi da queste cose? 2 ah vedi sotto 4 a 2 ok vediamo di ovvinser bestia 1 2 a 1 4 a 1 vediamo di ovvinser 4 nooo speriamo che non si fai a brincare 5 a 1 1-1 10 secondi di impingere Dai E se mi schianto Adosso Un secondo Si E ho dato il colpo finale Si si Vengo fatto missile perchè mi sono schianto ad osso L'ho fatto Alla Alla giapponese E ho detto E ho cominciato a sparare Adosso sto caro armato E ho detto Vaffanculo Sacrifico la mia vita per gli altri Si sono a livello 3 Dai che vediamo Bombardierna Dove sei? Ah te l'ho visto Ma se hai detto Quei americani Però adesso Ci ho mai Dopo me Quanto corre Quella paracorosità 230 130 Che beccogliore Si chiese lentissimi Cazzo Se si massacrano Non ci arriverò mai 250 Fino a 4800 metri Che cazzo siete di sparare? Ah E questo è per i mitragliari Ok E ora qua Vite che ha il visuale Tu dici Il visuale Quella che ti guidi Ha il visuale Quella Di la pancia Per capirsi Per tirare La mina E qui Ecco i mitragliari Wow Un 310 Allora Base da mezzata 1 più 20 E che sti bastardi Che mi indosso Oppure Dei buttarti So eh Si si Mi è capitato Più di una volta Perché è già duro Da buttarti So che cazzo Di aereo Ma se Mi allontano I miei mitragliari Spari? Si 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 Spara da sui Adesso mi è staggedrido a tutti Perché te ne capite uno Che era un pay-by Ma adesso ancora Che ne avevo uno A pettare il culo Che hanno reso Descoeato Dai Uh che manovra Dopo mi sono fatta superare Dai vai vai Oh forse avevo colpito Mi aveva fatto il danno critico Eh ti ho difeso il culo Dai Eh Si Continua a bombardare Fa il tuo lavoro Ancora Che mi Te fa il giro intorno Come che forse E' uno squaglio Uno che vedo Che li attaccate Tipo adesso Eh La fine Che non è uscita No 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.